ti racconti qualcosa nonno quanto ti piace questo pane e chi è che te l'ha dato chi è che te l'ha portato papà no papà sta qua però siediti che se che sporchi tutte le parti vedete seduto adesso attenti che c'è ecco bravo sei bravissimo amore mio così non sporchi e dopo puliamo per terra e ti è finito e dopo chiediamo a che gioco facciamo barbapapà dopo barbapapà giochiamo con i colori e poi a zio a zio zio chi ma zio mario lo chiamiamo dopo si prima barbapapà dopo i colori e poi zio mario benissimo e poi possiamo fare anche a tutti due da tanto che non lo facciamo tutti i tamburi e poi possiamo fare anche i pubi e le macchinine 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 di chi co 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 facciamo anche ma cosa non lo diciamo no 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 gra練 no glielo diciamo no magari abbiamo fatto il programma e dopo andiamo a casa a casa di chi? a babbo e mamma a babbo e mamma andiamo a casa e così abbiamo fatto la serata e tutto è finito dopo fai la pappa da babbo e mamma e dopo vai a vai a che fare? vai a far rana? da babbo e mamma? è finito molto bene fa ciao alla macchina alla macchina fotografica fai ciao ciao